ciao povero un po tempo non ci vediamo allora oggi piccolo video cortissimo lo dico sempre ma stavolta lo faccio perché vi voglio parlare solo e soltanto di una pietra avete già visto dal titolo per cui è inutile che faccio il misterioso oggi voglio parlare della yaginoshima una pietra non molto conosciuta non apprezzata da tutti però diciamo che forse poverina non è molto conosciuta proprio perché è un po difficile è un po difficile trovarla e ve la voglio fare vedere per bene al lavoro perché è una pietra una delle poche pietre giapponesi che riesce a coniugare la morbidezza con la finezza quindi spezza il quel binomio che secca il creato che la pietra giapponese è tanto più buona quanto è più dura questo generalmente vero ma non è sempre vero la yaginoshima è la prova provata che con una pietra di durezza media non è una pietra morbida comunque una pietra che gira tranquillamente intorno al a un livello 4 quelli che la gente quando li vede che schifo ma queste sono pietre da coltello ecco adesso vi faccio vedere chiaramente stavolta non rompo le palla uno dei rasoi buoni uso un normalissimo gold dollar vi faccio vedere la yaginoshima al lavoro o per fare questo ho dovuto preparare un'altra pietra la faccio subito vedere questa è lana non 10mila perché perché dobbiamo partire da un punto fermo quindi dobbiamo cercare di lisciare per bene intanto cominciò immediatamente a dare una strofinatina dobbiamo voglio cercare di togliere la maggior parte dei marchi di affilatura presenti già sul sul gold dollar quindi tanto per avere un immagine un immagine iniziale da cui partire una situazione iniziale da cui da cui partire e così poi possiamo andare a vedere come lavora la yaginoshima quali sono i suoi marchi di affilatura qual è la velocità di lavoro non dico subito è una pietra eccellente è una pietra che sicuramente chi affida i rasoi scusate chi affida i coltelli l'ha già sentita nominare perché sul coltello viene considerata una finitura estrema sapete che i grit in gioco sulle affilature dei coltelli sono sempre decisamente più bassi se un coltello è perfettamente affilato intorno alla grana 1000 con una 2000 con una 3000 già si effettua un'ottima lucidatura andare più su è solo per le lucidature estreme è solo per io intanto faccio subito il primo controllo stavo dicendo solo per lucidature estreme solo per dare un po o magari sul lame particolari lame che servono per sfilettare per fai per fare tagli particolarmente fini ma altrimenti non serve per salire più su quando serve di salire più su ecco la yaginoshima è un'ottima pietra perché ecco però bisogna metta poco che dite aspettate un attimo non ce l'ho superata ecco qua chiaramente visto il bevelone gigante aspetta mi sposto io col faccione in un punto dove do meno fastidio adesso il beve il gigante del del gold dollar facciamo facciamo le cose per bene facciamo un'altra passatina facciamo un'altra passatina sulla nano on anche se si sta caricando immediatamente la pietra conseguina una pulitina preventiva no non sarebbe stato male a vediamo 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 se riesco a fare qualche cosa per far vedere bene ma comunque ci serve un punto di partenza x qualsiasi per questo pensando che anche se la nano on la sto maltrattando non la sto lo sto facendo vedere fino a che punto può lucidare cercare di illuminare per bene per bene cercare di illuminare per far vedere uniformemente diciamo che così allora diciamo che questa può essere la partenza può essere la partenza del per la nostra yaginoshima se no qui perdiamo troppo tempo sulla nano on e invece voglio parlare di un'altra pietra quindi ci siamo mentre mentre state guardando quell'immagine così della fissate bene nella memoria oggi non so attrezzato per fare ferme immagini allora intanto io cambio eccola qui la iaginoshima vediamo a metto in un punto ecco dove si vede bene mi riprendo il mio gold dollar da sotto il microscopio allora adesso prima cosa da dire anzi cosa da dire fondamentale come tutte le pietre giapponesi allora le pietre giapponesi l'ho già detto tante volte non amano essere allagate spesso tendiamo a bagnarle troppo dico tendiamo perché anch'io lo stesso vizio ma in particolare la yaginoshima è una pietra che gradisce pochissima acqua e quando dico poca intendo veramente poca usare la solita spippacchiatina quindi solito spruzzino dell'acqua adesso guardate è già troppa rastendo un pochettino con le mani ma anche per togliere l'eccesso perché signori belle diceva come l'eccesso si l'eccesso tra l'altro la pietra è porosa quindi ho detto con livello 4 sono porosa quindi l'acqua tende ad essere assorbita velocemente poi ancora non lo vedete ma qui a occhio nudo già vedo alcuni punti che si stanno asciugando guardate qui qui se ci si riesce l'angolino estremo quindi con una pietra solo leggermente inumidita andiamo a fare le prime passate e vi faccio vedere quale sarà il risultato del passaggio della pietra sul sul bevel vedete adesso come si si sta asciugando quindi o chiaramente adesso sono passate disordinate non state a guardare per favore di dio che già che a voi già ho capito già state guardando come sto mettendo il rasoio come lo sto muovendo come lo sto spazzolando negativo questa non è una vera affilatura adesso a me serve fondamentalmente di tirare fuori i marchi di affilatura da questa pietra dell'effetto finale come se mi dovessi rasare con questa lama non esiste proprio per cui sto andando con la manina abbastanza pesante cerco sto cercando più la velocità che il bel risultato che il bel risultato finale quindi anzi scusatemi se la manona adesso è andata avanti cerco di toglierla è andata avanti all'obiettivo allora è difficile da vedere perché la pietra è scura però intanto cominciate a guardare sul gold dollar la vedete l'acqua carica di limatura non fa fanghiglia perché ripeto la pietra è semi dura o semi morbida ma non morbida al punto di creare sospensione al passaggio guardate ho appena asciugato il filo guardate la limatura prodotta vedete la pietra come si è asciugata velocemente avete visto quanti pochi secondi sono rimasto sul al lavoro adesso andiamo a vedere subito un primo un primo passaggio quindi andiamo sotto il microscopio e andiamo a vedere quello che sta succedendo vedete lo ricordate già rispetto a prima guardate che che enorme differenza in un minuto in un minuto di lavoro o poi calcoliamo sempre che i marchi di affilatura fatti in precedenza erano marchi di affilatura lasciati da una nano on non è che l'avevo passata su un camparato per cui non vi fate fregare come al solito dalle cesse dall'ingrandimento molto forte del microscopio i marchi di affilatura precedenti erano marchi di affilatura di una 10.000 sintetica di altissima qualità guardate che cosa sta succedendo qui marchi di affilatura sottilissimi proprio sottilissimi e guardate in solo un minuto già il bevel come si presenta andiamo un pochettino facciamola lavorare un po di più perché insomma alla fine non è che sia una pietra magica con i poteri speciali per cui come prima spruzzino d'acqua una piccola spruzzata questa volta era troppo piccola una piccola spruzzata d'acqua la allargo così da evitare zone di eccesso come tutte le pietre magari giriamo la ha visto mai e continuiamo col solito lavoro disordinato veloce diciamo andiamo giù di cerchietto tanto per quindi sto lavorando su una pietra quasi 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 asciutta vedete che non non ho il solito fiume d'acqua davanti alla lama che la lama si porta avanti e approfitto di questo minutino di secondi di secondo passaggio per ribadire il concetto tutte 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 le pietre giapponesi con pochissime eccezioni andrebbero usate senza eccessi d'acqua poi ci sono pietre come questa che veramente l'acqua la gradiscono meno delle altre poi magari vi faccio vedere anche la differenza ma non è che se io metto più acqua la pietra gli sta che cosa combina è solo che se comincio a mettere più acqua la pietra lavora male la pietra lavora molto meglio se utilizzata in questa situazione quasi al limite dell'asciutto quindi anche qui adesso il solito minutino di lavoro spazzolatina andiamo a vedere che è successo al microscopio un attimo che cambio inquadratura ecco lo scopio vedete c'è più che altro scusate cerco di abbassarlo per farlo vedere un farlo illuminare un po meglio devo giocare un po con la luce allora mi spostolo o poi ripeto in gold dollar quindi non è il massimo guardate il filo di questa pietra e ditemi se non è un filo che può essere idoneo per la rasatura e se calcolate che la yaginoshima non ha un grit stellare è un grit alto però mediamente si può essere considerato le quali alla stregua di un 8 mila diciamo magari ci saranno esemplari più fortunati che possono arrivare ai 10 mila esemplari un po meno fini ecco intorno agli 8 ma guardate guardate quel filo guardate come è steso guardate come è dritto e guardate l'assoluta assenza di bave mi sposto eh mi sposto anche per farvi vedere il resto assoluta assenza di ringrosso sul filo state guardando beh adesso facciamo la prova del 9 ritorniamo un attimo sulla pietra vedete talmente poca acqua che già è di nuovo asciutta adesso invece l'affogo adesso vado di acqua abbondante non l'ho fatto 5 6 spruzzate quindi adesso sono nella classica situazione che forse troppe volte abbiamo creato utilizzando le pietre giapponesi quindi adesso comincio a spazzolare allora vi faccio vedere subito una cosa che cosa succede con con tutta questa abbondanza d'acqua guardate ve lo faccio vedere subito guardate e rimango sotto l'inquadratura queste erano dove sta dove sta questa era la limatura prodotta con la pietra asciutta adesso vado a prendere un pezzo pulito lo faccio vedere da qui asciugo il filo eccolo eh guardate qua nulla assolutamente nulla non si è alzata l'immatura la pietra non ha lavorato se la vogliamo andare a mettere un attimo sotto il microscopio sempre per essere pignoli però troveremo sicuramente la stessa situazione di prima eccola qua la vedete non è cambiata assolutamente nulla anzi forse ha peggiorato addirittura qualche cosa prima il ringrosso era totalmente assente adesso si vede un principio di lucidatura vicino al filo vedete c'è una parte più nera vicino al filo ma il filo si è portato a presso pure qualche piccolo ringrossino adesso l'ultima cosa l'ultima prova per questa pietra è vedere come lavora in sospensione io da qualche parte se mi date un attimo eccola qua eccola qua ho la sua tomo quindi vediamo qual era il lato quello con gli angoli smussati eccolo qui quindi adesso già che di acqua ce n'è fin troppa sto perdendo un po di tempo così nel frattempo la pietra assorbe acqua e si asciuga fino al punto giusto però visto che è solamente così una prova dato per farvi conoscere il carattere di questa pietra allora un po un po di fanghiglia ripeto con la sua tomo e lei e lei è un po di fanghiglia l'abbiamo alzata e vi faccio vedere un po ancora c'è troppa acqua però ve lo dico subito quindi non lavorerà al meglio dovevo aspettare un po che si assorbisse si assorbisse l'eccesso aspettate eccola qua faremo la mettere bene sotto la webcam allora chiaramente lavorando con una pietra scura per fare il filmato per fare il filmato non è il massimo con una pietra chiara bianca gialla le variazioni di colore come si ingrigiva la sospensione sarebbe stato molto molto più evidente con una pietra scura l'ingrigirsi della sospensione è difficile da da apprezzare però vediamo poi alla fine quando vado quando andrò ad asciugare quando andrò ad asciugare il bevel vediamo se il se il tovagliolo rimarrà pulito ecco adesso sto insistendo sempre in un punto della pietra per cercare un punto scarico d'acqua visto che la maggior parte del liquido ce l'ho qui vedete invece da questa parte ce n'è rimasto solo un velo rimango nella zona meno bagnata dai diciamola così senza dover cercare per forza un po pure da quest'altro lato ok io penso che per dare un'occhiata al microscopio per dare un'occhiata al microscopio già ci siamo ok come al solito fazzoletto aspettare esposto la pietra fazzoletto dal lato pulito adesso vado ad asciugare il filo guardate quindi una buona buonissima velocità di asportazione del materiale lo vedete quindi è una pietra che tanto per fare il riassuntino se la volete utilizzare pulita senza lavorare con le fanghiglie la dovete bagnare pochissimo non gradisce molto acqua visto che invece con tanta acqua la pietra non lavora bene con le fanghiglie anche lì la fanghiglia è molto liquida è molto guardate guardate la fanghiglia è veramente liquida però anche lì non bisogna eccedere allora un attimo prendo il microscopio eccolo qua beh guardate anche qui bello no quindi non satina tantissimo questa tra l'altro me l'ho scordato di dirla all'inizio è una delle caratteristiche della yagi no shi ma anche riconosciuta da molti affilatori di coltello se volete la finitura proprio a specchio non è proprio la pietra idonea perché tende comunque anche a pietra pulita tende a satinare un po' usata così a fanghiglia è ovvio che ci sia satinatura però vedete non ce n'è ha tolto quell'accesso quell'eccesso quel principio scusate di lucidatura che si vede subito sotto il filo è una pietra veramente media media come non è una pietra da satinatura guardate mi sto sto scorrendo lungo il filo ma vedete che il risultato è quello ma ragazzi questo queste sono le potenzialità in quant'è sono 24 minuti sono il 24esimo minuto di registrazione per cui veramente poco queste sono le potenzialità della yagi no shima ma io ve l'ho fatta vedere per prenderla ad esempio intanto scusate gli do una pulita volevo togliere quell'eccesso di fanghiglia che sarà fatto solo allora la lascio lì ma non tanto ho preso la yagi no shima non tanto perché volevo fare la presentazione di questa pietra che per carità bellissima e se lo merita tantissimo questa è messa al contrario scusate questi sono i ganji della yagi no shima e questi sono i ganji della sua tomo ok ma ripeto ma solamente per dimostrarvi con i fatti e non con le chiacchiere che andare alla ricerca spasmodica della pietra da finitura o sui vari negozi online o sui vari annunci di ebay sempre alla ricerca livello 5 livello 5 livello 5 che poi i parametri che ci interessano sulle pietre giapponesi sono tre e invece il venditore te ne mette sempre uno solo quello riferito alla durezza e mi dovrebbe mettere quello riferito alla durezza quello riferito alla velocità di trasportazione e quello riferito alla capacità di lucidatura e se ci pensate bene dei tre è proprio la durezza che non ce ne frega niente a me che è una pietra l'importante è che è fine anzi se è fine e veloce ancora meglio che poi è dura e morbida ma chi se ne frega però c'è il vizio ormai consolidato il 90% dei venditori online quando pubblicizzano una pietra l'unico parametro che mettono praticamente tutti è il livello di durezza e spesso è molto arbitrario perché il venditore dice per me questo è un livello 5 poi se invece è un 4-4,5 il venditore gli sono a 5 e scrive 5 e visto che di solito di solito scusate cambio anche immagini di solito la pietra giapponese più dura è anche la più fine allora noi ci facciamo ingolosire e andiamo alla ricerca spasmodica di queste famose pietre livello 5 5 più 5 più più sembra la pubblicità degli anni 80 del crotino allora vi volevo far vedere che esistono tante pietre alcune migliori alcune meno blasonate per cui la finezza e la durezza non sono strettamente correlate oggi ho preso questa yaginoshima perché è una pietra che si riesce a trovare ancora in giro non è il santo graal non è una pietra di nicchia ad andarsela a ricercare se uno fa un po' di ricerchine la yaginoshima si trova oggi ho affilato con la kitsuyama che è ancora più morbida ma è ancora più fine è una pietra ancora più specializzata ripeto molto più morbida il passaggio del rasoio va in autoslurry fa fanghiglia al solo passaggio della lama ma di una finezza impressionante però la kitsuyama è una pietra difficile da trovare per cui è inutile non volevo farvi l'esempio con quella quindi ho preso una pietra più ripeto non molto commercializzata però neanche di nicchia si riesce a trovare è un po' come cercare una auto sono pietre che si trovano ormai quelle che il mercato ha saturato sono le varie una kitsuyama non ne parliamo una kitsuyama un sasso raccolto per terra è diventato automaticamente una nakayama uscito dalla mia nakayama e poi c'è l'esempio quello scusate me l'ho scordato l'esempio lampante aspettate sposto un po' e shobutani ragazzi le shobutani sono finissime sono finissime anche con dei livelli di 4 4 e mezzo quindi ma allora tutto questo pipotto per dire che vi faccio rivedere l'ultima volta è rimasto il rasoio sotto il microscopio questa guardate non è un'immagine fissa se muove allora per farvi vedere che per farvi vedere che in giro sul mercato ci sono tantissime pietre di valore di pregio che non necessariamente costano un rene perché è un po' come nell'abbigliamento spesso si paga la marca più che la vera qualità nelle pietre la stessa cosa spesso su un'anakayama il 50% del valore lo fa il nome un altro 20% lo fa il produttore perché un'anakayama anonima è una cosa un'anakayama tirata fuori con il kanji di Kato-san quando era lui il proprietario della miniera non ne parliamo quelle inakayama tirate fuori quando il proprietario della miniera era Tanaka Taoshi quando arriva quel marchio circolare con le banditine la gente impazzisce proprio c'è tanta qualità intendiamoci non le sto denigrando c'è tanta qualità però questo era per dire che esistono ancora pietre di altre miniere meno blasonate e quindi di conseguenza meno costose che fanno dei lavori eccellenti tutto sta a imparare a capirle e a saperli tirare fuori imparare a tirare fuori il meglio che la pietra possa dare ripeto questa è una pietra per esempio che se non trattata in questo modo cioè con solo velo d'acqua non si può definire neanche bagnata avete visto come lavora avete visto che come al solito ritorniamo sui nostri passi che con un solo velo d'acqua la pietra non solo a finezza ma prende anche una bella velocità con la pietra affogata d'acqua eccole qua le due macchie d'umidità di quando ho pulito il filo la pietra non lavora la pietra rallenta la pietra non dà il meglio che si e la gente dice madonna che schifo mi hanno fregato ho buttato i soldi la pietra che lavora con la giusta quantità di fanghiglia ecco di nuovo la grande asportazione di materiale ecco di nuovo la velocità che si va ad unire alla finezza per cui concedetemi l'ultimo pippotto ma da 30 secondi e stavolta abbiamo chiuso il video finalmente non l'ho fatto durare un'ora prima di lamentarci delle pietre in caso di affilature che non vengono che non vengono bene prima di lamentarci delle pietre facciamoci l'esame di coscienza perché ricordatevi non è mai la pietra che affila è il polso dell'affilatore quello che deve fare la differenza le pietre vanno capite questa pietra ancora adesso è idonea per essere per lavorarci sopra basta un'inomidita sono pietre che magari vogliono il goccino d'acqua in più quelle che vogliono il goccino d'acqua in meno quelle che non hanno bisogno di grosse pressioni altrimenti diventano cattive e segnano troppo come la maggior parte delle pietre dure quelle che hanno bisogno della mano un po' più felpata ma questa è la prova provata che qualsiasi pietra su qualsiasi pietra scusate c'è ancora margine di miglioramento perché il limite della pietra non è mille volte la pietra stessa molte volte siamo noi che arriviamo al nostro limite che è sotto quello che potrebbe dare la pietra la pietra potrebbe dare ancora di più e qua mi rivolgo a tutti quelli che dicono no ma questa non è da non è una pietra da rasoio questa non è una pietra da coltello questa di qua questa è la ma perché non le sapete usare le pietre perché ripeto meno male che il rasoio ancora non l'ho toccato quello quello lì è un filo da coltello non è un filo da coltello quello lì è un filo da rasoio fatto oma no ma io non capisco quelli che tu non capisci quelli che ma li capisco io basta con i pippotti ragazzi basta quindi io a questo punto aspettate cambio inquadratura vi saluto però contentissimo che sia riuscito a fare un video di 35 minuti che è sempre dato ma per me è la metà del solito la pietra ve l'ho fatta vedere ve l'ho fatta vedere al lavoro ve l'ho fatto vedere il risultato quello che volevo sapere volevo trasmettere volevo cercare di far capire che durezza e finezza sulle pietre giapponesi non è sempre una regola intoccabile non è una regola aurea per cui se la pietra non è dura automaticamente non è fine mediamente è così ma magari nell'ambito della stessa cava se parliamo della cava di Nakayama le Nakayama più dure potrebbero essere un po' più fini di quelle un po' meno dure ma se il discorso lo facciamo in generale se allarghiamo un po' gli orizzonti non è detto che per avere tra le mani una pietra molto fine si debba cercare una pietra molto dura le pietre ci sono ci sono in giro ci sono ottimi esemplari ancora a prezzi abbordabili ripeto il limite sta nel nostro polso difficilmente difficilmente noi mi ci metto in mezzo anch'io noi arriviamo al limite della pietra possiamo andare a letto e dire con coscienza beh quella pietra più di quello non mi può dare nessuno di noi c'è arrivato io sono convinto che c'è sempre ancora un po' di margine in più da raggiungere e si raggiunge tanto prima quanto meglio si conosce il materiale che abbiamo a disposizione basta 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 quindi detto questo ragazzi io vi saluto vi ringrazio della pazienza per chi è arrivato fino a questo punto ma tanto lo so che non ci arriva mai perché le statistiche di youtube me lo dicono filmati da un'ora tempo di visualizzazione media 12 minuti ma va bene così la colpa è la mia che non riesco a tenere lì a me gli occhi guardate ragazzi un salutone a tutti quanti ci vediamo alla prossima un ciao popolo gigantesco a tutti ciao popolo grazie a tutti